Eccolo qua ancora una volta, 2.224, eccolo qua, complimenti guardate le gambe, seguito dallo nero, cento, venti! E poi, e la torna dello in testa, il straniero con il centro è cento tre in sotto, di una manifestazione, tra il centro, 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 Si vedele sicuramente, ma siamo veniri e sei che sono, partiamo, 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 semplice questa sfida, il problema di Marco, eccolo, facendo questa sfida, qui a seguire... attenzione, Elix, dovete aprire per favore da quella parte, perché Elix va a andare una destra, tutti, la salle libero. Per questo la sottotitola parte, allora, entro tutti i cuantoschi, il amico, no? Per questo quattro, come abbiamo l'amico di Andrea, Maria Scobie, della donna Michele Gennetti, per questo 75, Angela, Missia, 379, Emanuele Strinucci, poi abbiamo il 383, Guadiz, 337, Roberto Sottini, 183, 305, Antonio Sodinelli, 298, Andrea Portarelli, 203, 30, 30,